E' evidente E' evidente modesto appuntimento dei bordi dei cigli, cotiloidei, virgola, un po' più marcato a destra ove è riconoscibile anche piccolo nucleo calcarea ridosso del ciglio punto a capo, un po' ridotti in ampiezza gli spazi articolari coxo femorali bilateralmente punto a capo. Non sembrano riconoscibili particolari aspetti di argolarità delle teste femorali punto a capo. Grazie. 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 Grazie.